Molti telespettatori ricorderanno anche per le tante interviste fatte a Televiguria Sud il professor Carlo Lupi che è mancato nel 2020, nel dicembre del 2020. L'Istituto Superiore di Scienze Religiose ha promosso l'anno scorso un convegno. Venerdì prossimo 20 settembre alle ore 18 presso il Centro Studi Diocesano in via Malaspina 1 verrà presentato il libro che raccoglie gli atti di questo convegno. Per l'occasione parteciperanno studiosi ed esperti dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose e il nostro Vescovo Sua Eccellenza Monsignor Luigi Onnesto Palletti. Oltre al Vescovo interverrà Don Andrea Villafiorita che è il direttore dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose, il professor Roberto Natella e il professor Matteo Zoppi che sono docenti dell'Istituto. I relatori presenteranno gli atti del convegno e ricorderanno insieme il professor Lupi. Logicamente tutta la cittadinanza e chi ha conosciuto il professor Lupi è invitato a questo bel appuntamento.